ci sono film in vari festival e poiché in marzo in varie città c'è quello francese vi segnalo tra le varie categorie per primo a l'amour e all about them titolo inglese di a trois on y va ovviamente presenta un triangolo sentimentale che è abbastanza allegro mentre quello nel film l'ombre des femmes in the shadow of women ha tutt'altro stile pare sia famoso il regista ed è in bianco e nero ricorda film del passato ma nella categoria ci sono anche blind date ricorderete un peu beaucoup avec le mans in harmony en équilibre e la belle saison chiamato anche summer time tutti i film già segnalati per il festival di Perth presenze italiane indirette alla Perth concert hall perché giovedì 10 al mattino il concerto organ symphony presenta quella di saint sans ma anche il concerto numero uno di paganini per violino e ci sarà uno stradivario del 1721 ma venerì e sabato sera aggiungono la prima australiana di due arrangiamenti di brani di debussy e uno si intitola le colline di anacapri nel festival francese segnalo anche heat wave coup de show colpo di calore si come un po i tempi recenti perché riguarda il clima in campagna molti film campagnoli francesi ma non solo ed è un thriller psicologico che al centro il cosiddetto idiota del villaggio e rientra nella categoria intensa così come l'attesa che ben conosciamo ed è intenso non francese ma australiano il film the daughter del regista simon stone che nasce dalla sua versione dell'anatra selvatica di ibsen rimmaginato in ambiente odierno col teatro belguardi sydney e lo spettacolo è qui con il festival di perth fino al 13 al teatro statale invece i giovani della dell'accademia wapa riprendono ogni sorta di attività l'undici define gravity con ospiti e fanno musica al free mental art center in sede c'è teatro dall'undici al diciassette tre sorelle e coriolano teatro musicale dal dodici sogno di una notte di mezza estate fino al diciassette ma anche the trousers chaperone che pare sia spassoso fino al diciannove ci sono anche vari film francesi raccomandati da david e uno è corte l'ermin cioè l'ermellino che porta il giudice interpretato a fabrice lucchini mentre the white knights i cavalieri bianchi parlano di una organizzazione non governativa in africa ispirata all'arca di zoe coincidenza mandora c'è il film francese welcome che parla proprio dei migranti come le notizie di questi giorni e sarà lunedì 14 al mattino e alla sera in tour spare parts con acico a brum l'otto marzo poi altre sede in astralia occidentale e arriverà a mandorale 23 24 26 ma intanto sempre a mandorale 10 festeggiano i 40 anni di dancing queen e i 12 il choir of hard knocks con un tour dal titolo speranza e ispirazione questo lunedì 7 è oltretutto festivo labor day a tutti un saluto ci risentiremo